Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo del seghetto, ma ora sigla! Qualcuno a colpo d'occhio potrebbe pensare che è un argomento molto semplice. In realtà ha tanti accorgimenti, ma non sono tanto gli accorgimenti fini a se stesso. È il fatto che essendo un seghetto a mano, qualsiasi accorgimento che attuiamo, oltre a farci fare un lavoro più veloce e qualità migliore, ci aiuta anche a fare meno fatica, perché è bene sì il seghetto un po' di fatica la costa. La principale caratteristica di quello che viene chiamato seghetto da ferro è la lunghezza della lama. È una lama da 12 pollici che equivalgono a circa 300 mm di lunghezza, mentre l'impugnatura della quale ce ne sono due tipi principali. Questa che vedete adesso che si impugna così, con la seconda mano nella parte frontale e questo non cambia mai. Il secondo tipo di seghetto o di impugnatura è quello col manico. Impugnatura così, quindi esattamente perpendicolare rispetto a prima. La seconda mano invece è sempre uguale, nello spigolo in alto. Nasce come seghetto del ferro e da lì ha preso il nome, però negli anni si sono sviluppate svariati tipi di lame che possono essere montate sullo stesso archetto. Qui davanti le vediamo ordinate per dimensione di dentatura. Partendo dall'alto troviamo la dentatura più grossa, che è una lama da legno adattata a seghetto del ferro. Ha lo stesso interasse della foratura per applicarlo al seghetto, ma ha una dentatura che è adatta solo a tagliare legno. Scendendo troviamo tre lame arancioni. Queste qui sono tre lame adatte a tagliare ferro, adeguate anche a tagliare la plastica, ma nascono per il ferro. Anche loro sono ordinate per dimensione di dentatura. Difatti qui vedete un numerino, 18, 24, 32. TPI significa teeth per inch, denti per pollice. Quindi ci sta dicendo che anche se da lontano sembrano uguali, il numero di denti in quella sopra è minore, ci sono denti più grossi e quindi un numero minore di denti per ogni pollice di lunghezza. Adesso vediamo a cosa serve anche questo. Ma passiamo prima a vedere anche l'ultima in fondo. L'ultima in fondo è una lama in carburo di tungsteno. È una lama finissima o perlomeno sono dei granellini simili al coriddone, quello utilizzato per le mole abrasive per limare gli utensili come questa. Se dobbiamo tagliare questi tre ferri che vedete nella mia mano, che sono un tubo sottile, un tubo rettangolare sottile, un tubo tondo spesso, alto spessore, un tondino, le lame da utilizzare in teoria ma anche in pratica sono diverse. Perché ho detto in teoria comunque? Perché non vuol dire che una lama con i denti piccoli non sia capace di tagliare un tondino pieno e viceversa una lama con i denti grossi non sia capace di tagliare un tubo. Però adesso spieghiamo quali sono le problematiche che va a creare e non utilizzare la lama corretta e soprattutto perché utilizzare i denti grossi col tondino e i denti piccoli col tubo. La logica è molto semplice. Partiamo dal tondino pieno. Questa è la lama con 18 denti per pollice, quindi quella col dente un po' più grosso. Perché dobbiamo usare un dente grosso quando andiamo a tagliare un tondino, quindi un materiale pieno? Quando noi stiamo tagliando e il ghetto avanza, già visto da non informazioni i denti guardano tutti in avanti mentre taglia, il dente che inizia a tagliare quando tocca il materiale nella parte che guarda il mio dito e finisce di tagliarlo quando arriva dal lato opposto, asporta una quantità di materiale che attraversa tutta la lunghezza del pezzo da qui a qui. Vuol dire che la quantità di materiale che accumula dall'inizio alla fine deve avere sufficiente spazio all'interno della cava del dente per far arricciolare il trucciolo. Se noi utilizzassimo la lama col dente finissimo, questa è quella da 32 denti per pollice, il dente che inizia a tagliare qui e finisce dal lato opposto, quando è arrivato circa a metà del tondino la cava che accumula il trucciolo è già completamente piena e quindi da lì in poi non riuscirà più a tagliare e il seghetto pattinerà completamente. Pattinerà significa che se il dentino lo spigolo vivo del tagliente è otturato è pieno dal materiale che si è accumulato nella cava il seghetto non può fare altro che scivolare sopra il materiale quindi a noi sembrerà che quasi va che c'ha sull'olio il seghetto ma non sta tagliando niente vedremo polvere invece che trucciolino e questo tra virgolette ci farà abbattere ci darà difficoltà di lavoro ma in realtà stiamo sbagliando solo la lama. E invece perché il dente piccolino quindi tanti denti per pollice sono adatti a tagliare un tubo di spessore sottile? È chiaro che se abbiamo detto che prima accumulavamo tanto materiale adesso una volta che abbiamo superato il primo pezzettino di taglio il materiale che accumula è pochissimo perché se questo tubolare ha uno spessore di 2 millimetri non fa tempo accumulare materiale che il dentino è già all'interno scarica il trucciolo e quando tocca la seconda parete 2 millimetri ed è fuori un'altra volta a scaricare il trucciolo ma c'è un'altra questione che viene bene capire prendiamo la lama grossa da 18 denti per pollice quando noi tentiamo di tagliare un tubolare con questo dente è talmente grosso che tenderà veramente a saltellare nel senso che ogni dente toglie talmente tanto materiale che il seghetto tende ad andare a colpi e dato che lo stiamo muovendo a mano tutti questi colpi li sentiamo noi li sente il seghetto e li sente anche la lama quindi diventa anche più facile spaccare un dente tant'è vero che nelle lame vecchie che adesso andremo a vederne una i denti del seghetto si spaccano questa che vedete che è una lama da 24 denti per pollice che ha fatto la sua storia eccoli qua qui mancano tre denti qui ne mancano uno due qui ce ne sono un po in fila completamente danneggiati questi si sono spaccati perché hanno preso un colpo quindi stavano tagliando un tubo veramente tanto sottile e a quel punto il dente ha trovato un ostacolo troppo grosso noi stavamo spingendo forte si sono rotti dato che abbiamo presentato una lama rovinata vediamo anche quali sono gli altri punti che determinano che una lama è rovinata o rompiamo il dente o la lama non è più affilata dato che le lame del seghetto non vengono affilate andremo ad utilizzare una lama fino a quando è sufficientemente affilata per affondare abbastanza velocemente nel materiale quindi da cosa riusciamo a distinguere quanto affonda velocemente da quando stiamo tagliando se pattina allora è il primo sintomo che la lama non è più affilata l'altra cosa da cui lo possiamo vedere sono i truccioli e questo adesso andiamo a vederlo in pratica quando una lama è nuova farà un trucciolo veramente bello grosso quando una lama è molto usurata anche se la dentatura è corretta per il tipo di tubo che dobbiamo andare a tagliare farà polvere una riprova manuale che possiamo fare è anche quello di andare a toccare la lama del seghetto senza farci male quando è usurata si sentirà che i denti sono tendenzialmente arrotondati quando andiamo a toccarli soprattutto se facciamo il paragone con una lama nuova qui stiamo tagliando un pezzo d'alluminio con una lama usurata da 24 denti nella mano di elena vedete la polverina che viene fuori il trucciolo che è quasi una polverina adesso cambiamo la lama sempre una 24 denti oltre alla velocità di avanzamento dove la differenza è stata papabile anche la dimensione del trucciolo è decisamente più grossa rispetto a prima ma non dimentichiamoci una cosa come si monta la lama del seghetto che abbiamo comprato ne ho viste tantissime al contrario dobbiamo guardare per prima cosa la dentatura i dentini che guardano per così la punta del dentino deve guardare la testa del seghetto e non l'impugnatura quindi così il sistema di fissaggio ce ne sono svariati tipi il mio seghetto in questione c'è già un dentino stampato insieme alle estremità altri che ho qui hanno la spinetta altri hanno la vite il concetto è sempre lo stesso dobbiamo mettere un qualcosa come previsto nel seghetto dentro questo foro per poterlo poi tensionare ora la lama che abbiamo messo ancora molle per tensionarla dobbiamo avvitare il tirante che abbiamo in questo caso un pomello ricavato nella sagoma della maniglia nei seghetti più semplici che fanno lo stesso lavoro c'è un dado a farfalla l'obiettivo è sempre lo stesso è quello di trazionare la lama ma fino a quando la trazioniamo adesso è ancora molle e lo capiamo dal fatto che addirittura salta fuori iniziamo a tirarla un pochettino non salta più fuori ma siamo in grado senza problemi di fletterla lateralmente molto facilmente perché non va bene quando è troppo molle noi tagliamo il materiale quando spingiamo in avanti il seghetto se è troppo molle la lama tende veramente a flettersi mentre lavoriamo e ci rende il lavoro difficoltoso e soprattutto è difficile fare un taglio dritto perdiamo tanta energia a continuare a far muovere la lama quindi iniziamo a tirare fino a che prima di tutto il leverismo è morbido a mano non dobbiamo mai arrivare al punto di usare pinze dopodiché controlliamo quando flette circa uno o due millimetri tra il destra e sinistra la tensione è corretta passiamo alla pratica ora andiamo a vedere quali sono i movimenti corretti da fare per tagliare un pezzo di ferro col seghetto ho già messo in morsa un tondino pieno da diametro 20 millimetri di acciaio al carbonio quindi tondino pieno quale lama devo utilizzare esatto quella coi denti più grossi quindi quella da 18 denti per pollice ti sembrerà una banalità ma il pezzo che dobbiamo tagliare deve essere ben affrancato se possibile in una morsa o con un morsetto a qualcosa di solido e pesante perché se il pezzo uscilla ogni volta un pochettino noi ogni volta che spingiamo con le mani per muovere il seghetto per tagliare il pezzo spenderemo l'energia per muovere il componente avanti e indietro se teniamo per esempio un componente in mano è impossibile tagliarlo o perlomeno consumiamo 100 volte più della fatica che serve quindi ben affrancato in morsa e ora vediamo il movimento corretto prima di tutto se abbiamo seghetto con l'impugnatura perpendicolare mano ben salda mano nell'angolo superiore lo dico subito attenzione a non picchiare le dita contro il pezzo perché può succedere dopodiché la prima cosa da fare è fare il segno nel pezzo e dobbiamo utilizzare per un attimo la lama al contrario nel senso che se noi quando tagliamo dobbiamo spingere in avanti per tagliare e tornare indietro leggeri perché se no roviniamo i denti per fare il primo segno è comodo primo di tutto non caricare con la mano davanti se no i denti tendono a impuntarsi utilizzare il dito per fare l'appoggio della lama ma non dal lato della pelle dal lato dell'unghia dal lato dell'unghia la lama gli scivola contro l'unghia non ci fa niente e ci fa anche da riscontro per posizionare il seghetto partiamo belli in avanti e procediamo una volta fatto il primo segno il seghetto terrà già la strada dentro quel taglio quindi da questo momento l'unghia la togliamo così ci dedichiamo a dare l'intensità e il movimento corretto al seghetto con due mani la mano davanti questa qui sopra serve solamente a guidare il seghetto e dare un pochettino di carico nel momento in cui avanziamo quindi non a premere come un matto semplicemente a tenere il seghetto verso il basso perché immaginate se io lo tengo qua a fare forza verso il basso ci vuole un braccio di maciste la seconda cosa che fa la mano davanti è tenerlo scaricato quando torna indietro che non significa sollevarlo ma deve solo pattinare indietro solo col suo peso sopra la mia mano non deve più caricare nel ritorno perché altrimenti i dentini invece che lavorare per così che asportano trucciolo se noi calchiamo quando tornano indietro è come se continuassero a fare così e il dente diventa rotondo ma diventa rotondo in fretta non quando si è usurato ultimo punto e poi tagliamo questo tondino il movimento da fare che è avanti indietro per tutta la lunghezza della lama da qui a qui ci consente di sfruttare ogni movimento che facciamo per tagliare asportare più materiale possibile perché se noi ci muoviamo solo nel tratto centrale muoviamo le mani avanti e indietro 20 volte ma abbiamo usato praticamente il 20 30 per cento della lama e quindi vuol dire a ogni passata togliere il 20 30 per cento di quello che potevamo togliere che praticamente equivale a fare tre volte in più degli avanti e indietro per completare lo stesso taglio la postura corretta per il taglio soprattutto delle gambe è in genere la gamba opposta alla nostra mano prevalente che nel mio caso è la destra avanti e l'altra indietro sono leggermente aperte le gambe perché perché quando andiamo a fare il movimento e sfruttiamo tutta la lama farlo solo di braccia la lunghezza è giusta giusta andremmo a fine corsa con le braccia ogni volta quindi quello che facciamo praticamente è ci aiutiamo anche col movimento delle gambe così il 50 per cento lo fanno le gambe e il 50 per cento lo fanno le braccia tre cose che probabilmente avete già notato mentre guardavamo taglio prima cosa quando iniziamo ad affondare il seghetto all'inizio la velocità di avanzamento quando la lama non è ancora ben guidata all'interno del taglio è un po più bassa perché non riusciamo a dare il massimo delle prestazioni perché sennò un minimo tende a saltellare e quindi ci porterebbe a uscire dal segno che abbiamo fatto punto numero due mentre stiamo avanzando delle volte è comodo cambiare un pochettino l'inclinazione perché praticamente è come se andassimo a ridurre lo spessore del materiale che stiamo tagliando questo aiuta comunque a fare truccioli un po più corti e fare truccioli un po più corti tagliando a mano agevola o perlomeno dà la sensazione di avanzare più velocemente a livello teorico non cambia niente altra cosa quando stiamo uscendo lì è meglio che ci forziamo a rallentare perché altrimenti la sezione diminuisce tanto e quando finiamo tendiamo a strappare il pezzo quindi uscire soprattutto con una direzione molto variata ci consente di uscire graduali e di fare un taglio finito bene e soprattutto di prendere pochi colpi il nostro video finisce qui spero che ti sia piaciuto e soprattutto che ti sia stato utile se così è ricordati di lasciare un like qua sotto perché è di grande aiuto e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale perché è quello che ti consente di rimanere aggiornato sui nostri nuovi video e ci consente a noi di continuare a fare video se conosci qualcuno che è interessato a questo argomento ricordati di condividere il video con lui e se hai qualcosa da aggiungere a questo argomento o da dire la tua su questo argomento scrivilo pure nei commenti qui sotto che sono fatti apposta io ti saluto e ci vediamo al prossimo video